Ciao ragazze e ciao ragazzi, avete presente quando vi perdete nei meandri di internet e vi mettete a guardare cose su cui non sapete nemmeno come siete arrivati? Ecco, mi stava succedendo proprio oggi e mi sono messa a guardare le pettinature più assurde, più oscene veramente di tutti i tempi e mi sono detta cavolo, devo assolutamente farvele vedere Quindi questo video sarà una tipologia un po' particolare, cioè vi faccio vedere le 10 pettinature più assurde, i tagli di capelli più pazzeschi, terribili mai visti prima Che dire della fotografia numero 1? Allora io non ho assolutamente niente in contrario ai baffi, voglio dire stanno benissimo eccetera eccetera Questo ragazzo vedo che già ha un paio di baffetti, non capisco perché i suoi baffi si siano spostati da qua alla fronte, non capisco perché lui abbia voluto farsi crescere un paio di baffi sulla fronte Non credo sia una nuova moda, mi auguro non succeda mai, ditemi voi che cosa ne pensate però e poi ci vorrebbe uno shampoo a questi baffi perché secondo me sono un po' grassini Però appunto non, insomma la mia faccia dice tutto Se la fotografia numero 1 era assurda che cosa dire della numero 2? Allora io direi che il parrucchiere è stato veramente molto molto bravo e molto dotato questo parrucchiere Thumbs up, pollice in su per questo parrucchiere perché si capisce perfettamente che si tratta di Kim Kardashian A parte che sembra un po' strabica però si capisce benissimo che si tratta di Kim Kardashian Quindi ha fatto anche un ottimo lavoro, io non capisco che cosa si è saltato in mente a questo ragazzo Per andare dal parrucchiere con una foto di Kim Kardashian e chiedergli ti prego fammi, fai in modo che lei sia per sempre tatuata, non per sempre Insomma avete capito, stampata sulla testa non capisco come lui si è felice di andare in giro con la sua faccia appiccicata ai capelli Certo si può essere un fan eccetera ma mi sembra un pochino esagerato Cosa dire della numero 3? Allora io qui sono veramente in dubbio, non so se questo sia il taglio di capelli e barba e baffi Perché è tutto un'unica roba collegata migliore del secolo o peggiore del secolo Migliore perché sicuramente ci sarà voluto un bel po' di lavoro e è stata anche un'idea molto originale E non sarà stato facile collegare in questo modo capelli e barba e baffi e farli bianchi e dipingere il resto di giallo Naturalmente sarà un mega fan del tennis però non sarà stato facile C'è da dire però che lo sto inserendo tra i peggiori e che se mi dispiace non mi dispiace per niente Ma lo inseriamo tra i peggiori perché una roba del genere non si dovrebbe proprio vedere Nel senso che è veramente osceno, io capisco che possa essere ad una partita Ma non credo proprio che questo taglio sia stato fatto un secondo prima di andare alla partita E anche se fosse è comunque una cosa assurda La numero 4 non so come descriverla Sembra un po' un nido di un uccello invece sono dei capelli Questo ragazzo sicuramente ha un buon prodotto volumizzante Che insomma potrebbe consigliare anche a me che di volume ne ho zero Ma io capisco la moda emo, la moda non so come si chiami con questi capelli tutti portati in avanti Io capisco veramente, quello che non capisco è perché conciarsi come un nido di uccello Anche perché credo che questo ragazzo debba andare in giro portandosi la testa così Perché questa roba deve pesare un quintale Non riesco a capire se sono capelli veri oppure no Probabilmente sì, il che mi lascia un po' perplessa Non riesco a capire come lui abbia fatto a creare una cosa del genere Sembra alquanto felice e soddisfatto visto il segno di vittoria Ma non riesco a capirlo dal viso perché è praticamente sommerso dentro questo barlume di capelli annidati Quindi a mai la pena si riesce a capire se si tratta di un ragazzo o di una ragazza Numero 5 è anche questa molto artistica e quasi mi dispiace inserire questo capolavoro in questo video Dei peggiori tagli di capelli di sempre perché anche questo taglio, questa cosa, scultura, non so Questa pettinatura non deve essere stata facile da realizzare Ecco il parrucchiere deve essere stato sicuramente bravo Quello che non capisco è perché una ragazza debba farsi capelli a forma di elicottero Magari stava diventando pilota Io non lo so veramente però sicuramente un posto nella nostra top 10 Dei peggiori tagli di capelli, acconciature di sempre Se l'è meritato a pieni voti Numero 6, che dire La cornice della disgrazia Io non so come chiamare Sembra un viso incorniciato Capelli e barba Anche qui si fondono per creare un unico capolavoro Veramente che non c'è più limite al peggio Davvero Io adesso anche qui mi chiedo perché E sono sempre Sono sempre anche i visi Sono sempre un po' spaisati Cioè è come se nemmeno lui capisse Perché si è fatto questa pettinatura Però se l'è fatta E si merita assolutamente un posto nella nostra top 10 Numero 7 E lui sembra molto divertito da questa sua pettinatura Deve essere stata una sua idea Una di quelle notti in cui bevi un po' troppa vodka E poi dici Sì domani mi faccio sta pettinatura Per il 99% delle persone Il giorno dopo Naturalmente Cioè Cambia idea Per il 99% delle persone Questa era solo un'idea da una notte da ubriachi Invece per lui no Lui ha pensato che fosse un'ottima idea Ed è andato assolutamente a farsi i capelli A forma di berretto da baseball Insomma un capellino Sembra anche molto molto soddisfatto Di questa sua scelta Voglio dire E speriamo non diventi una moda Perché altrimenti Insomma vedersi queste pettinature in giro È davvero sceno Se non che Almeno protegge il viso dal sole La numero 8 È forse la peggiore di tutte Adesso ditemi voi nei commenti Secondo voi qual è la peggiore Io ve le metto in un ordine Non definito Ma questa Può essere veramente la peggiore di tutte Allora Già il fatto Di Raparsi a zero E Farsi un topo Una pantegana Sul retro dei capelli È veramente di cattivo gusto Ma La coda Ragazzi La coda Cioè Perché Questa coda E Cioè Mi farà brividire E soprattutto Notare la lunghezza della coda Cioè Questo taglio Avrà richiesto anche un bel po' di tempo Quindi chissà da quanti anni Questo se ne va in giro Con una pantegana in testa La numero 9 Diciamo che è una pettinatura Da festival È una pettinatura Sicuramente Molto difficile da realizzare Anche questa Che Scusate questi Tonfi Assurdi Non lo so che cosa siano Se li sentite Probabilmente la mia vicina Sta tentando di tirar giù la casa Ma Questo è pettinatura È una specie di Cresta panchettara Che si è evoluta Nell'epoca dei festival Con tutte queste Margherite Colorate Eccetera Che credo siano fiori veri Io Mi chiedo quante ore di lavoro Ci siano volute Insomma Per una cosa del genere Mi chiedo Anche qui Perché Ma soprattutto A che pro E Probabilmente Per aiutare L'ecosistema Questa è la risposta Che mi do Perché notare La mosca Che staziona Su una di queste Margheritine Quindi Probabilmente Ci sarà anche qualche Apina Quindi Se non altro Aiuta appunto L'ecosistema E E il mondo Della fauna Numero dieci E anche qui Veramente L'assurdità Ma Credo di poter dire Che sicuramente Questa donna Questa signora Questa ragazza Deve essere una grande fan Dei biscotti Oreo 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 Non lo so come si chiamano Piacciono anche a me Però Non andrei a stamparmeli Addosso Tra l'altro Questo è il capolavoro Più capolavoro Di tutti quelli Che abbiamo visto Perché è una cosa Assurda Cioè mantenere una roba del genere Tra colori Tra scritte Cioè deve essere un lavoro Che richiede Una visita Dal parrucchiere Almeno Una o due volte a settimana Per l'amor del cielo Quindi Facciamo i complimenti A questa signora Per questo Ma Come si fa Ad andare in giro Con la pubblicità Dei biscotti Sulla testa Questo non me lo spiego Spero che Il brand L'abbia pagata Una somma Insomma Considerevole Perché altrimenti Non me lo spiego E niente Ragazzi Ragazzi Questo era il mio video Sulle dieci peggiori Pettinature Tagli di capelli Di sempre Scrivetemi nei commenti Secondo voi La peggiore Qual era Io Punto verso La numero 8 Che è quella che mi disgusta Di più Fatemi sapere anche Se questa tipologia di video Vi piace Così magari Vi preparo qualche altro video Del genere Vi mando un bacio E alla prossima Ciao Ciao